Domani si apriranno i campionati mondiali di calcio in Russia. Desidero inviare il mio cordiale saluto ai giocatori e agli organizzatori, comeppure a quanti seguiranno tramite i mezzi di comunicazione sociale questo evento che supera ogni frontiera. Posa questa importante manifestazione sportiva diventare occasione di incontro, di dialogo e di fraternità tra culture e religioni diverse, favorendo la solidarietà e la pace tra le nazioni.